Come in bocca al lupo è il futuro? Vieni, mi sapevo. Posso? L'anno del centenario dell'Arnautica Militare. L'Arnautica Militare ha fatto nascere lo spazio ai tempi di Broglie, è stata sempre protagonista. Quest'anno festeggiamo i cento anni, oggi è la giornata dello spazio contestualizzata nel centenario dell'Arnautica Militare. Questo è l'orgo del centenario come in bocca al lupo a Giuseppio perché lui sia uno dei leader del ruolo di leadership dell'Italia nello spazio. Puoi guardare qua?